Ma sono paure ridicole quelle che ho, tipo io ho paura degli horror, non li guardo perché mi spaventano. Dici grazie al cazzo, è il genere, lo guardi per quello, come dire un porno, no no, poi mi arrapo. Io voglio essere rassicurato quando guardo, ora tipo io guardo documentari storici, capisca è una roba da vecchi, tra parenti, c'è nel senso, per farmi vedere un film come The Ring, a me me lo devi far introdurre come minimo da Alessandro Barbero. Dici beh, The Ring è la storia di una femmina morta che esce da un buco e non è un aborto. Io Barbero l'adoro, guardo qualunque cosa perché lui ha entusiasmo e quell'entusiasmo a me mi trascina, capito? Può dire anche le cose più disgustose, ma io a Barbero metto like, capito? Dice le ragia di anali, le morroidi.